Il comune di Santa Venerina, attraverso un comunicato stampa, ha reso noto alla cittadinanza il completamento di due importanti demolizioni. La prima riguarda lo smantellamento della casa posta all'ingresso di via Zullo da via Ardichetto, mentre la seconda riguarda la casa sita in via Acqua a Bongiardo, subito a monte del ponte della strada provinciale per Zafferana e Tnea. Entrambi gli immobili, spiega l'ingegnere Arcidiacono, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sono stati acquisiti al patrimonio dell'ente, nell'ambito delle pratiche per la ricostruzione a seguito del violento terremoto del 2002. In via Ardichetto, fa sapere l'amministrazione, verranno presto realizzate alcune aree di sosta con alberatura, mentre in via Bongiardo non sono previsti interventi comunali. Ma la demolizione portata a termine si inquadra nel più ampio programma di raddoppio del ponte che attraversa la provinciale che collega Santa Venerina e Zafferana e Tnea. Nel 2017 il Comune ha ottenuto dall'ex provincia di Catania, oggi città metropolitana, l'impegno a inserire l'opera nel proprio piano triennale dei lavori pubblici, dando comunque la propria disponibilità a fornire a quest'ultima l'area necessaria al raddoppio, che coincide con quella liberata grazie alla demolizione avvenuta nei giorni scorsi.